La breve fuga di Natalia, la donna ucraina vittima di violenza sessuale, è stata rintracciata oggi pomeriggio dalla polizia alla stazione ferroviaria. Questa mattina si era allontanata dall'ospedale dove era ricoverata facendo perdere le sue tracce. Sequestro cautelativo per il cantiere stabile, il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza. A Trapani è già Natale, tanti gli eventi organizzati in città per aglietare le festività. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito con la nonchiettizia delle ultime ore. È durata poco la fuga di Natalia dall'ospedale e i poliziotti l'hanno rintracciata alla stazione ferroviaria. Ascoltiamo il servizio. Un bacio all'unico amico che ha in città prima di salire sull'ambulanza che l'ha riportata al Sant'Antonio Abate. È finita la stazione ferroviaria di Trapani, la fuga di Natalia. Questa mattina la donna ucraina di 44 anni, vittima di violenza sessuale, si era allontanata dal reparto di chirurgia dove era ricoverata e dove aveva subito un delicato intervento chirurgico. L'allarme era scattato alle nove. Dopo la visita medica il personale sanitario non l'aveva più trovata nella sua stanza di degenza, dove aveva lasciato il telefonino cellulare ai vestiti che i trapanesi le avevano donato, rispondendo all'appello lanciato dal suo avvocato Fabio Sanmartano. Nel primo pomeriggio di oggi, gli agenti della squadra volante l'hanno rintracciata, Natalia era con il suo amico. Si chiama Leo e in città passeggia sempre tenendo al guinzaglio il suo rottweiler con il suo look particolare, rigorosamente in nero. Leo l'ha sempre aiutata e protetta. Non sopporto chi si approfitta degli altri, ha detto Leo, mentre l'ambulanza si allontanava. Il forte legame di amicizia tra Leo e Natalia è sancito da quel bacio che ha commosso i curiosi presenti davanti all'ingresso laterale della stazione. Con Leo Natalia si sente protetta ed infatti dopo la fuga è corsa da lui. E lui l'ha convinta davanti ai poliziotti a salire sul mezzo di soccorso che si è diretto verso l'ospedale. Ancora non si conoscono i motivi della fuga, c'è però un retroscena. Oggi Natalia doveva incontrare l'assistente sociale del comune, Rosalba Tranchida. Quest'ultima, alla presenza di una psicologa, avrebbe dovuto comunicare alla 44enne di aver individuato la struttura per donne vittime di violenza che l'avrebbe ospitato una volta dimessa. C'era già stato un primo incontro nel corso del quale alla donna Ucraina era stata prospettata questa possibilità, una volta reperita la struttura, disposta ad accoglierla. E la guardia di finanza di Trapani ha sequestrato le quote societarie del cantiere navale di Arturo Stabile. La guardia di finanza, su indicazione del GIP del Tribunale di Trapani, dietro richiesta della Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro preventivo delle quote societarie delle strutture e dei beni aziendali del cantiere navale Arturo Stabile, con annessa una struttura ricettiva al servizio del Marina. Le accuse nei confronti di Arturo Stabile, nella sua qualità di titolare di ditta individuale, sono di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento scaturisce dalle attività di polizia giudiziaria del nucleo di polizia economico-finanziaria della locale procura. L'azienda individuale, nel frattempo fallita, secondo le fiamme gialle, non avrebbe versato le imposte per oltre 1 milione 900 mila euro. Le attività cantieristiche, però, sarebbero proseguite sotto le insegne di una nuova società, costituita da Arturo Stabile, con i figli nella stessa sede della ditta fallita. Società oggi sotto sequestro cautelare, cui la ditta individuale avrebbe trasferito beni e concessioni demaniali attraverso la stipula di un contratto di cessione di ramo d'azienda, evidentemente ritenuto illecito dagli investigatori. Il sequestro cautelare non inficia le attività di impresa del cantiere navale Arturo Stabile, né delle attività connesse al Marina oggi, nonostante la notifica del provvedimento, regolarmente operativi e aperti al pubblico. Rimaniamo sempre sulla cronaca. Indagati per mafia percepivano ancora il reddito di cittadinanza e servizio. Sei persone indagate per mafia nell'ambito dell'operazione denominata Esperia, conclusa dai carabinieri il 6 settembre scorso, percepivano il reddito di cittadinanza. Sono stati gli stessi carabinieri ad accertarlo nel corso di ulteriori approfondimenti investigativi. L'operazione Esperia portò in carcere 23 persone ed oltre 12 furono sottoposte ai domiciliari. Tutte a vario titolo, accusate di associazioni di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo. Uomini, secondo gli investigatori, vicini al latitante Matteo Messina Denaro, che attraverso le attività criminali, soprattutto in materia estorsiva, tenevano in piedi le famiglie di Mazzara del Vallo e Marsala. I carabinieri, accertato che se degli indagati percepivano ancora il reddito di cittadinanza, hanno chiesto all'Inps di sospendere il beneficio che lo dispone la legge. Non può essere concesso a chi è sottoposto a misure cautelari personali. Richiesta di sospensione immediatamente accolta dall'Inps. Ed è stato individuato ed arrestato dalla polizia di Trapani, lo scippatore che aveva preso di mira un'anziana donna. Gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un ragazzo di 24 anni, presunto autore di una rapina commessa ai danni di un'anziana donna, consumata nei pressi di Via del Ferro. Secondo la ricostruzione della polizia, nella serata del 7 novembre scorso, il giovane, in sella di una bicicletta, avrebbe preso di mira una coppia di anziani coniugi che camminavano sul marciapiede. Dopo averli puntati con la bici, ha scippato nella borsa l'anziana signora, per poi darsi a precipitosa fuga. La donna, caduta violentemente a terra, aveva riportato diverse e gravi fratture, tanto da dover essere ricoverata in ospedale. Gli agenti della mobile, dopo un'accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona con quelle tratte dagli archivi di polizia, hanno individuato il presunto rapinatore, che, controllato nei giorni immediatamente successivi, era stato osservato indossare gli stessi abiti che aveva al momento dello scippo. Gli indizi di colpevolezza raccolti dalla polizia sono stati condivisi dalla procura e dal GIP, che hanno disposto per l'indagato gli arresti domiciliari. Ci spostiamo adesso a Marsala. Picchiò e Dorubò, un'anziana a Doronna, il rapinatore è stato arrestato dalla polizia di Marsala. Ascoltiamo. I poliziotti del commissariato di Marsala hanno arrestato il presunto responsabile di una violenta rapina in abitazione che vide vittima di un'aggressione, una donna di 73 anni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata richiesta dalla Procura della Repubblica sulla base delle indagini degli uomini del commissariato ed accolta dal GIP. Nel mese di settembre scorso, la vittima, 73enne, aveva subito una violenta rapina all'interno della sua abitazione e per le gravi lesioni subite nel corso dell'aggressione da parte del malvivente era giunta in prognosi riservata presso il pronto soccorso dell'ospedale Marsalese. L'anziana donna si è ripresa ed oggi, accogliendoli con un caloroso sorriso, ha ricevuto in casa la visita degli agenti del commissariato di Via Verdi che le hanno donato un omaggio floreale e comunicato la notizia dell'avvenuto arresto dell'uomo che la aggredì. Presentato questa mattina il Master Plan sul turismo esperenziale e sostenibile dal GAL Elimus. Ascoltiamo. Voglio parlare di questo tentativo tramite il Master Plan di pianificazione strategica degli interventi che sia per gli investimenti pubblici che per gli investimenti privati si devono fare in questo settore del turismo con criterio. Avendo in mente una strategia che è tenendo conto dell'analisi del territorio dal punto di vista delle risorse, delle opportunità che ha ma anche delle minacce, dei rischi che corre, individui delle strade percorribili per lo sviluppo e quindi indirizzi gli investimenti. Questo può sembrare teorico o addirittura retorico ma senza questa analisi non avremmo il disegno del bersaglio da colpire. Cioè ognuno spara le proprie cartucce così random senza una direzione precisa. Invece serve coordinare l'azione condividendo una strategia di sviluppo. Nella fattispecie perché vengo al contenuto della domanda perché il turismo relazionale e esperienziale perché una delle cose su cui noi dobbiamo puntare è la qualità della vita che noi possiamo offrire specialmente a chi viene dalle grandi città, dalle grandi metropoli da una vita basata su un'economia industriale avanzata che è molto stressante da un punto di vista non più fisico ma mentale e noi li possiamo accogliere facendogli gustare i nostri prodotti ma anche un modo di vivere che li contagi e li faccia innamorare li attragga e li faccia tornare. Su questa base non c'è solo l'enogastronomia c'è la nostra cultura da quella archeologica a quella religiosa etno-antropologica ci sono le bellezze naturalistiche, c'è il proposito di un turismo per il benessere quindi dobbiamo potenziare molto il Gall si è impegnato molto in questo proponendo un disegno di legge all'Ars sul rilancio del turismo termale ad esempio. Ma tutto ciò deve avere un trade union strategico metodologico che è dato da questo tratto che è l'accoglienza, che è la gentilezza che talvolta però non è esattamente quello che noi offriamo al turista, visitatore, viaggiatore. Nel programma europeo leader che finanzia l'azione dei gruppi d'azione locale quindi dei Gall c'è questa idea, cioè l'idea di mettere insieme istituzioni pubbliche istituzioni private, associazioni culturali, associazioni di categoria, operatori economici che condividono appunto una strategia di sviluppo del territorio. Io ho tentato senza al momento molto successo anche di realizzare un tavolo di coordinamento tra i varienti che si occupano dei temi dello sviluppo territoriale ad esempio i flag, il distretto turistico, il distretto del cibo, la provincia, la camera di commercio. Però alla fine ognuno è concentrato sulla propria azione ma ciascuno si rende conto che senza una strategia comune, un piano condiviso d'azione si rischia di sperperare delle risorse perché abbiamo poche risorse e se ognuno le spende in maniera non coordinata con gli altri evidentemente non possiamo raggiungere, non possiamo massimizzare i benefici che ciascuno di noi singolarmente si sforza di raggiungere. Voltiamo adesso pagina, a Trapani si respira già l'atmosfera di Natale ascoltiamo nel servizio tutti gli eventi in programma. Grazie 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 Grazie